Quasi 30 anni nel settore wedding Sono con Antonio Belviso di Caffè Express Ciao Antonio, come stai? Ciao, tutto bene, finalmente siamo qua Finalmente, hai detto bene, dopo due anni finalmente siamo tornati a Sposami E tu hai allestito il tuo stand in una maniera incredibile Sì, in realtà io faccio molto poco in questo, quello che vedete L'artefice Rita Santonoscito, l'altra responsabile della compagnia di Caffè Express E come ogni anno ci mette tutto il suo cuore per realizzare quello che vedete E questo è fatto tutto a mano, perché è passato poco fa l'assessore della regione Dice, ma è fatto a mano? Dice, ma siete pazzi? Sì, siamo pazzi Siete pazzi, però organizzate sempre tantissime cose belle Musica, intrattenimento, animazione, tanti spettacoli live Per i matrimoni e anche per altri eventi, chiamiamoli minori Sì, minori, ma per noi sempre importanti Quindi per esempio i compleanni per bambini, i diciottesimi, i compleanni adulti E poi facciamo eventi aziendali e in piazza Per esempio siamo l'animazione ufficiale del Sicilia Outlet Village E tante altre aziende Però per noi il privato ha sempre quell'importanza esclusiva in più Perché fanno l'evento unico con noi e condividiamo Quindi per noi è molto importante Curate tutto nei minimi dettagli Come questa bellissima scenografia Ovviamente anche gli sposi O comunque tutti coloro che si affidano a voi Vogliono organizzare il proprio evento Magari con un tema molto particolare Sì, noi abbiamo tante proposte diverse Oltre il siciliano abbiamo quelli vintage Abbiamo quelli dei mimi Del fuoco Insomma ci sono tante Poi facciamo anche su commissione Cioè se tu vieni hai un tema tuo Per esempio un tempo fa è venuta una coppia Che voleva un tema parigino Un'altra arabo E abbiamo fatto questi temi Perché chiaramente ci vuole il tempo dovuto Se mi viene un mese prima non ce la facciamo Però con sei mesi prima riusciamo a fare di tutto Perché tutto questo esce fuori dai nostri laboratori scenografici Tutto fatto a mano? Tutto fatto a mano Sì, abbiamo tre scenografie nell'azienda che fanno tutto questo E quali sono i servizi che più vi richiedono di solito? Animazione di attesa sposi Animazione per spettacolo Prima del taglio della torta Poi il DJ, lo speaker E poi attrazioni particolari Che ripeto sono anche a soggetto in base a chi viene E spettacoli? E spettacoli perché tutto quello che noi facciamo lo produciamo noi stessi Noi siamo una compagnia di 50 persone Che da 30 anni ormai all'anno prossimo Ogni anno tirano fuori due o tre idee nuove alla volta Il vostro servizio di punta? Ma in realtà per noi nessuno è di punta e nessuno è minore Perché teniamo a tutto quello che facciamo La cosa più bella è che ancora ci stimoliamo a fare sempre cose nuove E quindi ogni volta siamo affezionati a quella Ora domani presenteremo All The Jets Che sarà la nuova produzione a tema Charleston Per cui vedrete le cose belle domani nell'Area 20 Sicuramente vedremo allora le immagini Grazie Antonio È stato un piacere, ciao Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti